Ciao ragazze, un video, ragazze e ragazzi, un video super veloce in ascensore, perché sto andando a vedere uno spettacolo a teatro, volevo ringraziarvi, apro le quattro con voi, sembra pazza perché adesso se ci vedo, volevo ringraziarvi, ma di cuore, ma davvero di cuore, perché siamo arrivati a 159 iscritti, certo potevo arrivare a 200 per fare il video, ma no, ho detto, voglio ringraziare i 156, quindi grazie, grazie, yeah!